Musica San Bernardo, San Rocco, la mamma di Pazolla, tutti lavoratori di moneta di Ponte, e la ramos, non scambi, ti benefici di questa comunità, perché hai operato grandi cose per coloro più male, credo a noi, come Giovanni Sant'Ella. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.